La Roma crolla al San Paolo, Napoli 4-0, una partita del Napoli devastante stasera, dominata dall'inizio alla fine, ma più che altro c'è dei gol pazzeschi abbiamo visto, partita che si sblocca su un calcio di punizione di insignie dopo niente praticamente, perché comunque avevano fatto zero occasioni, poi vabbè, calci d'angoli, addominano in Napoli, possesso palla a Napoli, occasioni in Napoli, Roma non ha fatto nulla stasera, non ha fatto nulla la squadra di Fonseca, l'unica occasione pericolosa della squadra giallorossa è stato quel tiro alto di pristante, però la punizione di insignia, poi il 2-0 di Fabian Ruiz, il 3-0 e poi il 4-0 hanno steso la Roma in questo modo assurdo, perché va detto, la Roma non ha fatto niente ragazzi oggi, e poi Mertens è sul terzo gol, con Mirante che la trattiene fino a un certo punto poi la lascia lì, 4-0 è pesante ragazzi, perché una sfida così importante per la classifica perdere 4-0, ma non solo per la classifica, ma per gli sconti diretti, perché ora ritorno la Roma nel caso ci fosse un possibile pari punti con il Napoli, c'ha gli sconti diretti a sfavore di ben 4-0, cioè attenzione Mkhitaryan, ora ha messo giù nulla ovviamente, ma poi ragazzi, Politano ha fatto un gol fortunoso nel senso, però ha scartato tutti, un gol incredibile, poi vabbè col d'insegne, io ho detto, appena ha messo la palla lì ho detto questo è gol, e l'ha fatto, Mirante dal mio punto di vista che faccio anche il portiere poteva stare un passo più a destra forse, perché il pallone l'ha passato lì a fil di palo, sì, grande, allora, il tuo d'insegne è stato bellissimo, però Mirante poteva fare di più secondo me, poi la colpa non è proprio di Mirante, ma stasera la Roma non è entrata in campo, con 100 emergenze, infortuni di Mancini, infortuni di Veretù, Geko non al 100%, intanto è finita ora la partita, Napoli batte 4 a 0 Roma e vola a 17 punti, classifica aggiornata, Milan 23, Inter sassuolo 18, Napoli, Roma e Juventus 17, Verona 15, Atalanta e Lazio 14 e poi troviamo il Bologna 12, Cagliari 11, Benevento, Spezia, poi le altre 2 a 10, non me le ricordo, mi sembra ci sia la Sampdoria, ora l'altra non me la ricordo, ma un campionato veramente, ma veramente combattuto, noi ci vediamo domani nei prossimi 2 postparti, ciao a tutti!